ciao ragazzi benvenuti volevo dire due parole su un liquido della tabaccheria si chiama angeli e demoni e mi devo mettere gli occhiali scusate è un tabacco con un gusto dolce a base di biscotti se non vi luisci agita svapa tra qua non c'è scritto un emerita mazza estratti di tabacco aromatizzati ecco la divinità del cookie alla vaniglia al cospetto del demone dei tabacchi ok tabacco special blend comunque è un volevo fare vedere la felpa a tema mi sono fatto fare la felpa e non ve ne fregherà un emerita mazza ma comunque va bene così alziamo un po la fotocamera ecco ma mi sa che anche storto qua non lo so come forse la devo allontanare andiamo un po scusate faccio delle prove ok questo lo straccetto con babbo natale allora ho fatto insomma fare una recensione di un liquido non è che sia al massimo ok perché purtroppo è molto soggettivo va molto appalato quindi quello che ci posso sentire io un altro magari ci sente tutt'altra cosa ok l'ho solo voluto ho solo voluto parlarne perché per quanto possa essere differente la percezione del gusto credo che ne valeva la pena fare due parole perché è valido come come aroma ma a chi piace il tabacco non proprio schietto ok quindi aromatizzato questo qui il gusto del tabacco è deciso perché è un tabacco comunque credo che sia non è un lattacchia però è un gusto tabaccoso non leggero e neanche troppo pesante diciamo che è un tabacco medio come se si potesse catalogarli in scala da uno a tre ok quindi tre tre tipi di tabacco diciamo io metterei virginia questo e poi magari gusti più forti come quei gusti di sigaro io sinceramente non ho guardato che tipo di tabacco acqua qua c'è scritto special blend però non dice che tipo di tabacco sinceramente comunque se volete provarlo che vi piace diciamo non solo il tabacco cioè che vi piacciono gli aromi misti questo qua non è male è anche vero che non è un uno di quei liquidi che a volte si te lo spacciano tabaccoso però poi il gusto del tabacco si sente poco e niente diciamo che prevale più magari il gusto del frutto che perché che abbinato ok questo qua no questo qua il tabacco si sente è forte non è esageratamente forte io non ne ho provati tantissimi di tabacchi a soli di tabacco diciamo solo tabacco però c'era l'inglish mixture che già è abbastanza deciso come come sapore ecco diciamo che questo ci si avvicina però nonostante sia un gusto di tabacco molto deciso si riesce a sentire molto bene il gusto dolce l'aroma dolce scusate del del biscotto poi naturalmente cioè all'inizio i primi tiri senti subito distintamente i due sapori cioè i due aromi proprio i primi tiri senti distintamente la cosa che ti colpisce è che senti proprio i due aromi staccati cioè hai questa percezione qua riesci a sentire bene sia il tabacco che il biscotto non ti dà l'idea di di una cosa mischiata che non riesci a percepire riesci proprio a percepire sia il tabacco che il biscotto molto bene poi svappandolo questa cosa diciamo un po va via via ad assottigliarsi perché comunque è anche vero che bisognerebbe cambiare secondo me ogni giorno almeno girare avere tre tre aromi ok da 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 girare continuamente tipo oggi ho deciso di nuovo perché era un po di giorni che non lo svappavo di di riprendere questo poi magari domani passo su un altro aroma ad esempio poi ne parlerò ho preso un altro aroma buono del della gentleman che li sto provando ne ho già provati tre tre tipi diversi non sono male uno purtroppo l'ho fatto e ho buttato via la confezione però ve ne posso parlare era un tabaccoso alla sangria e non era male perché si riusciva ogni tanto a sentire una leggera nota di alcolico e poi il gusto diciamo della sangria quindi del vino si mischiava bene col tabacco non era male poi magari se se lo ricompro perché bisogna magari mentre se ne parla averlo per fare ogni tanto qualche tiro per riuscire a tirar fuori qualche idea da dire perché comunque come ripeto parlare dei parlare dei degli aromi non è semplice perché purtroppo per ogni persona è differente ok comunque se volete provarlo sappiate che che non è un gusto dolce e basta e neanche un gusto di un tabacco leggero è abbastanza deciso dolce ma il tabacco è molto deciso come gusto abbastanza picchia ok poi io naturalmente sto usando una nicotina a 5 mg per 100 ml quindi non so se mi confonde l'aroma perché comunque credo che la nicotina non vorrei dire una cavolata ma secondo me per apprezzare l'aroma a pieno sarebbe buona cosa farsi il liquido senza nicotina anche provarne 10 ml perché con la nicotina secondo me un po' a seconda della quantità che viene messa di nicotina secondo me un po' viene alterato non tanto la percezione dell'aroma però è questa cosa che ti dà la nicotina che picchia che ti fa un po' confondere comunque non è male è buono l'unica cosa che a me personalmente alla lunga poi mi stufa perché io i tabacchi così decisi così questi gusti così un po' più decisi non è che li adoro particolarmente e niente non ho altro da dire se non che forse prima avrei dovuto guardare su internet che diavolo c'è dentro perché sinceramente quando ho iniziato a registrare ero convinto che dalla boccetta ci fosse scritto che diavolo era comunque estratti di tabacco aromatizzati quindi sono più tabacchi e poi qua parla di cookie quindi biscotto alla vaniglia al cospetto del demone dei tabacchi sarà un english mixture lo scopo aroma tabacco no 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 qua non riesco proprio a parte che è scritto troppo piccolo quindi no no se ci fosse anche scritto qualcosa non riesco Più che altro biscotto vanigliato ci siamo, mistura di tabacchi, non so però che tipi di tabacchi ci sono, comunque potete andare sul sito della tabaccheria e verificare eventualmente che tipi di tabacco ci sono all'interno. Io più che altro appunto dicevo quando ho iniziato a registrare ero convinto di poter leggere poi qua perché sinceramente non me ne ero preoccupato, sapevo che era un tabacco mischiato coi biscotti però non sapevo che tipo di tabacco era, sul sito ho guardato una volta ma forse anche lì non diceva niente, poi non mi ricordo bene. Comunque ne ho voluto parlare perché è un buon aroma comunque, ok? Non è un aroma, tra l'altro costa anche parecchio, cioè a differenza di altri aromi questo qua viene 12,50€ quindi ha anche il suo prezzo perché comunque è buono. E' naturalmente è organico, anche perché credo che la tabaccheria faccia solo organici, tabacchi organici non estratti chimici, ok? Quindi questa è la mia maglietta nuova, se volete sostenermi visto che io non prendo né box in regalo né aromi né niente, non ho possibilità di avere nessun tipo di super chat quindi fare eventuali live con donazioni, ok? So che ho pochi iscritti, so che forse non sono simpatico a tutti, so che forse le mie recensioni non sono belle come quelle di altri, io non uso effetti speciali, non ho gli sfondi, non guardo tanto queste cose, sono un pochino più spartano. Cerco di fare più che altro quello che mi fa piacere fare, ok? Non lo faccio per forza, le cose forzate, non mi impongo, devi fare così, devi fare cosa, cioè cerco di essere più naturale possibile in quello che faccio. Anche perché è giusto così, questo è il mio canale e deve essere fatto, secondo me deve essere usato per esprimere le proprie esperienze delle proprie passioni, ok? Cioè se uno piace una cosa e fa magari i video perché ne parla, perché è contento, gli piace magari anche farlo, ok? Ed è contento magari di quello che compra, però spiegato con naturalezza, fatto con naturalezza, io credo in queste cose. Lo so che dietro non ho lo sfondo di legno bello con tutte le fotografie attaccate, ma sinceramente non è questo che io miro a fare, ok? Quello che io miro a fare è semplicemente portare il mio acquisto agli occhi di altri e parlarne secondo le mie opinioni, come se si fosse insieme, non so se è giusto fosse, Comunque il mio italiano è quello che è, purtroppo perché io ho la terza media, quindi se faccio qualche errore grammaticale concedetemelo. Ok, quello che voglio dire, appunto, è che quello che faccio io su questo canale non lo faccio per soldi, lo faccio solo perché mi piace, appunto, cioè è una cosa che mi appassiona e la faccio. Mi farebbe piacere avere tanti iscritti, però da un lato sono anche contento così perché conoscendomi, forse se avessi troppa gente che mi fa domande e cose, sono un po' pigro, magari non so se riuscirei a rispondere a tutti a volte. Comunque sono felice lo stesso che c'è qualcuno che mi segue e, appunto, come dicevo, non pagandomi nessuno, non riuscendo a finanziarmi in questa cosa, non posso comprare prodotti troppo costosi. Mi farebbe piacere portare dei prodotti costosi, atomizzatori e box pochino più costose per fare delle recensioni obiettive, reali, ok? Cioè, parlare veramente se questo prodotto poi comunque che costa magari un'esagerazione di soldi, dire effettivamente poi come stanno le cose. Perché io personalmente, quando guardo i video, insomma, più che altro li guardo per vedere come sono fatti, magari come funzionano. Ma poi le considerazioni personali, sinceramente, non le sto a guardare più di tanto perché ho notato che molti purtroppo fanno pubblicità al prodotto più che una recensione. Quindi non si riesce a capire se poi è valido o non è valido. Infatti, tante volte mi è capitato di comprare delle cose che poi dopo un po' di tempo si rivelavano un fallimento perché non funzionavano bene, eccetera, eccetera, ok? Quindi invece a me quello, il mio obiettivo, qual è? Quello di effettivamente, per esempio, comprare una billet box da 350 euro, portarla sul canale, fare la recensione e dire veramente le cose come stanno. Io ho avuto il clone, il mio clone si è rotto perché adesso poi lo riparerò, devo comprare un piccolo interruttore che mi serve per farla funzionare. Col suo pulsantino piccolo non posso bypassare il positivo se no si brucierebbe. Ho bisogno di un MOSFET che mi tenga la potenza, diciamo, della batteria, la tensione che passa in quel filo più grosso. Quindi devo montare quello, poi la riparerò così, la renderò, come ho già detto, una meccanica, semi-meccanica, ok? Elettronica ma senza circuito per poter regolare il vattaggio. Quindi mi si è rotta perché sicuramente ho comprato il vape shell clone e questo vape shell clone 99 su 100 aveva il difetto che probabilmente io non l'ho guardato. Ha una guarnizione sotto che dovrebbe tenere per non far uscire il liquido dal boro. Molto probabilmente perdeva, non teneva bene perché ho già visto su qualche forum qualcuno che si lamentava. Allora, non me ne sono preoccupato, ok? Ogni tanto perdeva, l'asciugavo, perdeva, l'asciugavo. Insomma, alla fine queste perdite sono andate a infiltrarsi dove non dovevano e ha iniziato a non funzionare più. Poi si è rotta perché poi l'ho provata a smontare, avevo provato a asciugarla ma non ho usato l'alcol isopropilico che poi ora l'ho comprato. Avevo usato la benzina avio, la benzina avio mi ha cotto tutto. Purtroppo ho fatto un errore di valutazione perché pensavo non avesse effetti così devastanti. A volte anch'io faccio le cose di impulso senza magari informarmi e quindi faccio degli errori. E quindi niente, la riparerò. Quello che già vi posso dire della Billet che è una buona box, per esempio. Funziona bene e secondo me è valida. L'unica cosa che non mi lascia, cioè che non mi convince al 100% è se effettivamente ne vale la pena di acquistare una Billet box originale. Perché comunque anche il clone è uguale. Cioè, al limite sarei più propenso a comprare una clone e comprare un Borotank originale. Se magari dà problemi di perdite, ecco, solo per quello. Poi per il resto potrei comprare, sì, il Vape Shell originale, ad esempio. Quello potrebbe essere interessante. Però poi ai fini la Billet, la struttura di metallo, io non so che differenza ci sia dal metallo che usano quelli che la fanno originale a quelli che fanno il clone. Sarà un metallo, sarà un acciaio un po' più buono, non lo so, ma proprio ci saranno differenze veramente irrisorie. Tra l'altro monta il DNA 60, ha anche il clone, quindi voglio dire, alla fine tutte queste differenze non giustificano il prezzo, la differenza di prezzo che c'è. Cioè, se uno vuole risparmiare, secondo me, e vuole comunque avere la soddisfazione di svappare con una Billet, può prendersi benissimo un clone. Cioè, se poi, purtroppo io parlo così perché penso sempre al mio portafoglio. Io, sinceramente, spenderci 300 euro mi girano le palle. Cioè, non ci vedo, visto che c'è anche la clone, che io, appunto, l'ho già avuta e non era col DNA la mia, era col circuito normale da 70 Watt. A parte che non mi è mai servito neanche tutti quei Watt, tutta quella potenza che può dare un DNA, perché poi alla fine ci svappavo a 15 Watt, 20 Watt. Quindi, cioè, non so che cosa ci possa essere di diverso da un DNA, cioè, svappare a 15 Watt, 20 Watt, 22, con un DNA o con un circuito normale. Ci saranno tutte queste differenze poi alla fine, non lo so. Io adesso poi comprerò il clone, sicuramente, perché ne voglio prendere un'altra, perché mi dispiace che mi sia rotta. La riparerò, quella però ne volevo un'altra che mi funzioni di nuovo tutto, ok? Ecco. E quella lì la riparo per non buttarla via. Però, appunto, monta il DNA anche questa, anzi, queste qua che sono, che ho visto io, cloni, hanno la porta USB addirittura, quindi, cioè, proprio, sono ancora meglio dell'originale, voglio dire. Perché puoi andare a intervenire con Scribe, se vuoi, e ti puoi andare a modificare anche due o tre parametri di curva. Quindi, appunto, poi, non lo so, dico, la comprerò, valuterò poi nel tempo, cercherò di farci più attenzione, stavolta, alle perdite, perché, effettivamente, sono quelle il suo Neo, ok? Non so se anche sull'originale, ma mi sembra di sì, perché anche qualche video che ho visto del Santone dice che ogni tanto bisogna togliere il Borotank, ma del resto anche questa. Ogni tanto va tolto, soprattutto, io lo faccio di solito ogni volta che lo vado a ricaricare, lo levo e asciugo, perché dietro si bagna. Anche se non perde, comunque fa condensa, ok? Perché qua si crea del calore in questa zona, ok? Tra l'altro questo è anche più piccolo, quindi il calore si sente di più, ok? Quindi tutto questo calore qua sotto, poi qua esce il vapore, qui calore, liquido, poi piano piano si forma della condensa dietro, per via della differenza di temperatura, come d'inverno nei vetri delle finestre, quando in casa fa caldo e fuori fa freddo. Poi se è solo condensa, diciamo che poi alla fine dovrebbe essere acqua, se poi c'è delle perdite di liquido, anche lì poi lo valuterò, però io credo che quel problema l'ho avuto da quando ho messo il vape shell, che non era l'originale, perché secondo me la sua guarnizione non teneva bene, che anche lì poi io non l'ho guardato ancora, potrei andare a verificare se effettivamente questa guarnizione è sostituibile o meno, se era un problema del vape shell poi in sé, o se non era il problema del borotank che non è originale, che magari non teneva. E lì si può tranquillamente, visto che comunque costa un po' meno, spenderci anche quei 30 euro per comprarsi un borotank originale. Secondo me li spenderei più volentieri così, ok? Alla fine ho una billet che la struttura e la scatola magari non sono originali, però ho il DNA lo stesso, avrei il borotank originale all'interno, mi comprerei magari qualche altro a donna, accessorio, hardware, quindi che ne so, un vape shell o qualche altro, ora che non mi viene in mente il nome, originale, io credo che basta, sei a posto, hai la stessa resa, cioè non cambia niente, ma proprio un bel niente, perché non penso che ci siano differenze di resa, ok? Tra un DNA e l'altro, il DNA è sempre lo stesso. Se tu metti il vape shell originale, quello è, sia nell'originale che nel clone. L'unica cosa che potrebbe fare la differenza a questo punto sarebbe la conduzione del negativo, perché magari c'è una differenza di metallo, ecco, quella è la conduzione del positivo sul pin inferiore, tra la clone e la normale. Forse ci potrebbe essere un piccolo ritardo di attivazione o una resa inferiore magari di uno 0, qualcosa, perché magari la conduzione di quei due metalli che non sono di qualità come nell'originale potrebbero fare quella differenza, ma secondo me per valutare una cosa del genere bisognerebbe avere degli strumenti per misurarli proprio, perché lì si parla veramente di cose che secondo me non si riescono neanche a percepire, a meno che non è un disastro il clone, cioè, ma non credo che dia questi problemi, cioè, che non funziona, perché mi sembra che ne sono state vendute talmente tante. Io ogni volta che vado a vedere su Treff Vape per vedere se c'è disponibile da comprarla, sono tutte out of stock, tutte, sempre. Cioè, quindi vuol dire che, sì, venderanno tante originali, ma di cloni ne vendono veramente una marea. Quindi, se ne vendono così tante vuol dire che la box funziona bene, ok? Io sono stato sfortunato e anche poco attento e l'ho fatta rovinare, però è ancora lì, ok? Ho levato il circuito, ho provato a collegare i fili, funziona, quindi... Alla fine andrebbe a funzionare come questa, che questa qui è una semi-meccanica. C'è il circuito che controlla, eventualmente, cioè, ti protegge dal cortocircuiti, ok, basta, finisce lì. Diventerebbe come questa artery. Comunque, tornando all'argomento principale, il liquido, vi dico, se vi piacciono i tabacosi aromatizzati, provatelo, perché è molto buono. Tornando, invece, al discorso di me, le magliette, il sito, i finanziarsi o meno, che vi dico sempre, ultimamente, nei video che faccio, se volete aiutarmi, potete acquistare una maglietta o una felpa con la mia scritta al link che vi lascio in descrizione. Basta, non ho altro da dire, vi auguro di nuovo buone feste, e spero di fare prossimamente altri video con nuovi prodotti e nuove cose. Volevo, visto che comunque hardware da comprare, insomma, alla fine poi sono sempre le stesse cose, volevo buttarmi un pochino più su parlare un po' dei liquidi, ok? Anche se non è una cosa semplice, perché parlare dei liquidi, ve l'ho detto, è molto soggettivo, però ci si può provare magari a vedere un po' di aiutare qualcuno che vuole comprare il liquido, cercare più o meno di fargli capire se potrebbe andare bene per lui o meno, dalle mie considerazioni, ok? Magari uno può arrivare a capire che cosa intendo dire quando spiego, magari uno può capire, dire, ma forse da quello che ha detto non fa per me, perché comunque il tabacco è forte, no, è meglio di no, ok? In questo caso, parlando di questo, comunque, lì l'aroma della tabaccheria si chiama Angeli e Demoni, quindi chiudo, lasciate un like se il video vi è piaciuto o è stato interessante e se non l'avete ancora fatto, come dicono tanti, iscrivetevi al canale, anch'io mi sono uniformato. Ciao ragazzi, buone feste!